Le persone che lavorano nel sesso, che vendono servizi sessuali, hanno diritto, come tutti i lavoratori, di essere trattate con rispetto e dignità. Quindi togliamole da quel contesto così degradato, non guardiamole come persone degradate, non rendiamole più degradate di quanto già la società e la cultura non faccia, non giusto. Regolamentare la prostituzione, un'attività che svolta in penombra o in clandestinità, rischia di alimentare lo sfruttamento criminale e lo svilimento della persona. Nell'antesala dei Baroni al Maschio Angioino se ne è discusso con esponenti di comitati e associazioni che si battono per i diritti delle prostitute. L'incontro ha promosso il dibattito su un fenomeno relegato ai margini della cronaca, per mettere a punto interventi che tutelino la sicurezza e la dignità degli individui, a prescindere dai pregiudizi. Sono costrette queste persone a lavorare in contesti davvero non accettabili, accanto nelle strade periferiche, accanto a cumuli di immondizia. Non è così che si deve lasciare le persone. Noi possiamo distinguere, andare a conoscerle, parlare, fare interventi, decidere se sono vittime, se sono autodeterminate. In ogni caso la loro condizione va presa in considerazione. Fino a domenica 7 aprile l'Associazione Radicale Certi Diritti si riunisce a Napoli per rilanciare nell'ambito del VI Congresso Nazionale sull'uguaglianza la lotta contro il proibizionismo sui corpi e sugli affetti. La prima sessione dedicata alla regolamentazione del lavoro sessuale ha visto la partecipazione dell'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tomasielli, a testimonianza dell'impegno che l'amministrazione intende dedicare a questi temi. Il comune può incanalare più o meno in aree che non siano degradate, che siano ben illuminate, che siano ben pulite e che consentono alle autorità di fare monitoraggio e controllo.